Oh ragazzi, ma avete mai pensato come potrebbe essere bello avere un sito dipinte di storia? Bene, oggi grazie ai nostri potenti mezzi in Technicolor 4K, full cose, eccetera, poi è una realtà. È vero, infatti qua sopra sulle nostre teste potete vedere il link su cui cliccare e andare a vedere il nostro bellissimo sito, che veramente è bellissimo, fighissimo e tutte le cose che finiscono conissimo, sperando che la rivissima non sia troppo contrariata da ciò. Va bene, direi che possiamo chiudere dopo questa battutaccia, fateci sapere che cosa ne pensate e alla prossima, alla prossima.